Ragazzi benvenuti in questa quinta parte Vi faremo vedere dove dobbiamo andare per togliere questa avventura Fare in modo che questa avventura la finiamo Perché altrimenti non potremmo fare video normali Questo è strano perché Quando facciamo video normali dobbiamo sempre stare in questa cosa impossibile E noi non possiamo E vabbè non so sprecare più niente Dai andiamo avanti e vediamo dove arriviamo C'avevo paura di chiedere Troppo alto qua su Aspetta che scende il giugiu Quanto devo aspettare? E' il tempo che scende giù il mattone Sta quasi per scendere Sta risalendo Poi scende sempre più giù Fino a quando non scende sempre più giù Adesso Ma ci hai messo troppa energia Hai ragione ci ho messo troppa energia Aspetta fammi sto per... Un poco più trasversale Ragazzi dopo mille anni ci sono uscita Oh ma signora Vuole venire un attimo qua? Devi parlare con questa signora Attenta però vedi di non cadere Di mettere yes 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 Quanto ti da? Non lo so Quanto mi ha dato? 200 Mamma mia 200 soldi Oh che bello questo rosso blu Ora che devo fare? Ancora dobbiamo vedere dove deve andare no? Dove... E... Eh... Eh... Lui forse deve andare dall'altra parte Cammina Vai piano Vedi di non cadere giù Vedi di non cadere giù Torno indietro Torno indietro Vai da quest'altra parte Dove dobbiamo andare? Per andare E la signora lì mi è carica C'è un cavallo che non è molto Non è molto cosa Servisse un cavallo Pegasus Per arrivare qua Capito Vedi là ci stanno altri livelli Sì però Tu non devi andare di là Perché tu da là Stai venendo Quindi Dobbiamo vedere dove dobbiamo andare Ok Vedi dove si è questa botola Da dove sei arrivata? Dalla Giusto? Sì Ok Vorrei Non mi parla No No Un attimo fammi vedere Dobbiamo salire quel ponte Vedi? E salire quel ponte Che si è? Dobbiamo andare Aspetta Alzzalo un poco Alzzalo in alto Vediamo Vediamo cosa dobbiamo Dobbiamo salire sul castello Ma dici le frecce Dici là Vedi quelle frecce Se guardi bene ci sono delle frecce Non ci sono Che c'è Guarda là No Ok Prova Eh no Olomboso È troppo distante Troppo distante Prova a salire su A saltare sul castello Tanto se cadi Dovrebbe essere blu Però è bello Blu vero? Eh sì È cambiato Almeno di colore Diamante Vedi E mi ha dato pure Pico E spero che la quinta parte Vi sia piaciuta Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Alla sesta Ci vediamo